Allora, cambiamo la pagina. Quindi abbiamo il primo Parzouf, che si chiama Galgalta. Io di proposto faccio le proporzioni diverse per comodità. Poi questo Parzouf che ha ricevuto il suo riempimento inizia a sentire che preme su di lui Ormakif. E allora non può più contrastare in quel posto che si chiama Tabur. Non può contrastare. Allora, lui. Si purifica, si svuota, si estingue. Mano a mano nel cammino si svuota sempre di più. Però succede la seguente. Le luci in Parzouf si chiamano Tamim, gusti. Le luci che escono dal Parzouf si chiamano Nekudot. Reshimot ricordo dal Tamim, si chiamano Taghin. Reshimot rimasti dal Nekudot si chiamano Otiot. Oppure Kilim. Oppure Kilim. O Kilim. O Kilim. Cioè, c'è qui. Abbiamo qui luci che con l'ingresso e uscito si chiamano Tamim, Nekudot. Le luci che escono dal Kli. Lascio un ricordo. Reshimot Taghin da quelle luci che sono entrate. e Otiot che escono dal Parzouf. Noi nel lavoro con la luce del creatore abbiamo bisogno del Kisaron. Bisogno verso cosa? Alla Dazione. Le Aspa. Kisaron per la Dazione. Quindi risulta che il Kisaron che è avvento fuori è più importante di tutto quello che si ha detto prima. Che è Otiot. Reshimot, l'impressione da tutto ciò che ci è successo. Quando noi possiamo con queste impressioni lavorare. Per questo TANTA. L'abreviazione di Taghin Nekudot Tamim Nekudot Taghin Otiot E la cosa più importante è Otiot. Di nuovo TANTA E' simile a TANTA E' TANTA 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 E' TANTA Stato dello sviluppo. Lo prendiamo e continuiamo in avanti. TANTA TANTA